Se il livello continua ad alzarsi, come abbiamo registrato anche negli ultimi giorni, questo potrebbe dare dei problemi per quanto riguarda le eventuali infiltrazioni agli interrati. Falde acquifere sempre più alte a causa dell'aumento delle precipitazioni nella regione del Veneto, che nell'anno idrologico 2023-2024, cioè da ottobre a settembre, hanno toccato complessivamente i 1.595 mm, molto di più della media del periodo 1994-2023, attestata intorno ai 1.110 mm. Fino a settembre abbiamo rilevato delle precipitazioni che sono il 44% superiori rispetto alla media, facendo balzare quest'anno al primo posto o comunque al secondo posto tra gli anni più piovosi che abbiamo registrato negli ultimi decenni. 29.370 metri cubi di acqua piovuti, quest'anno è stato il secondo più piovoso dal 1994, superato solo dall'annata idrologica 2013-2014, acqua che ha fatto salire il livello di falda nell'alta pianura Veneta. Le misure monitorate sono vicine alle massime registrate negli ultimi 20 anni. Situazione che, seppur positiva perché arricchisce le riserve d'acqua della regione, ha anche un risvolto negativo sulla vita dei cittadini delle zone dell'alta pianura. Abbiamo comunicato a tutti i sindaci della zona delle Risorgive, quindi l'alta pianura Veneta, questa problematica e ovviamente questo è un evento che purtroppo è già accaduto nel 2013-2014 e quindi sono tutta una serie di attenzioni da porre, per esempio non lasciare i beni in cantina, però è un problema che probabilmente si ripresenterà se le precipitazioni continueranno. Grazie. 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 Grazie.